Salve a tutti gli amici di TechDifferent, siamo qui con la prova videoregistrazione con la videocamera JVC Everio, modello quad proof, stiamo registrando in full HD che è il formato massimo di registrazione di questa videocamera, c'è anche un'opzione per registrare in Blu-ray, vediamo lo zoom che siamo a 20x, videocamera che è molto leggera, vedete come balla nonostante la tenga con due mani addirittura, e andiamo a 40x. Poi c'è anche lo zoom dinamico che raggiunge i 200x, ma sgrana troppo, quindi non ve lo consiglio. Torniamo al minimo, giornata molto favorevole, come possiamo vedere, facciamo una panoramica, eccola qua. Andiamo a inquadrare anche il cagnolino, facciamo lo zoom, torniamo indietro. Andiamo a vedere come si comporta in condizioni di chiaro scuro, vedete che si adatta molto molto bene, qui siamo all'ombra, vedete che si adatta bene alle varie condizioni. Direi che possiamo terminare questa prova, grazie a tutti, un saluto e alla prossima.